Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria, la cultura si fa finanza, è Luciano Locasto che vi parla, siamo sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa e oggi non presenteremo un servizio, bensì un'eccellenza dell'Istituto Svizzero della Borsa, almeno per quanto riguarda l'area delle opzioni. È un servizio che ha generato un profitto superiore al 900% in quattro anni di applicazione, capaci di performare in qualsivoglia fase del mercato e con immenso piacere e onore che presentiamo quest'oggi Weekend Option e il suo autore, il dottor Massimo Foglia. Buongiorno Massimo. Ciao Luciano, buongiorno a tutti. Allora Massimo, le borse ha una svolta storica, guadagna con le opzioni settimanali di Weekend Option. Io adesso ti assegno immediatamente il controllo dello schermo così che tu possa mostrarci le caratteristiche del servizio Weekend Option, le strategie utilizzate, eccetera, eccetera. Quindi hai tutta la nostra attenzione Massimo. Prego. Sì, allora per chi fa opzioni questo deve essere il grafico master, il grafico dei grafici, cioè l'andamento del VIX. Come si vede, quello che è successo sia a dicembre, quindi stiamo parlando dei primi giorni di dicembre, sia a gennaio è uno spike di voatilità tutt'altro che banale, quindi si è passati da livelli prossimi a 15, che sono i minimi storici, fino a livelli vicini a 35 a dicembre e superiori a gennaio, quindi si è arrivati in prossimità di 38-39. Poi la volatilità è di discesa e la giornata di ieri e di oggi sta vedendo una nuova risalita, quindi siamo attualmente a livello prossimo a 24. Allora, perché è importante la volatilità? La volatilità è importante perché sostanzialmente mi quantifica il valore temporale delle opzioni, vale a dire quel di più che le opzioni hanno incorporato nel prezzo, oltre a valore intrinseco, cioè il valore dell'opzione se scadesse in questo processo momento, quindi quel di più è commisurato alla volatilità, quanto più la volatilità è implicita, tanto più questo valore temporale aumenterà, quanto più bassa sarà la volatilità implicita, tanto più succederà l'opposto. Quindi se un'opzione vale di più significa che io pago di più le coperture, perché devo comprare le opzioni, quando la volatilità è implicita e alta incasso di più anche la vendita di spread, quindi ad esempio per assecondare un movimento a rialzo io posso recuperare il costo della copertura a rialzo comprando col spread attraverso ad esempio della vendita di put spread, quando la volatilità è bassa io ovviamente devo stare molto più vicino a livelli correnti di mercato perché altrimenti non incasso nulla, ok? Quando la volatilità è alta io posso andare più distante, ma questo è nella logica delle cose perché con la volatilità alta significa che il mercato impiega poco per arrivare a livelli distanti. Parleremo oggi di diverse modalità di implementare una view rialzista, ribassista, laterale in un contesto di volatilità alta, volatilità che aumenta, che diminuisce e un mercato che di conseguenza segue un andamento a rialzo o a ribasso. Diciamo che in diversi posti ho affrontato questa tematica, cioè la tematica delle strategie più a rischio, strategie meno rischiose. Quali sono le strategie più a rischio? Essenzialmente quelle che ho utilizzato finora in Weekend Option e che sono un po' quelle da me preferite sono i front ratio spread e i butterfly asimmetrici, detti anche broken wing butterfly, che sono praticamente dei butterfly asimmetrici con una parte, un range diciamo più ampio rispetto all'altro. Questo perché si fa una struttura di questo tipo? Si fa una struttura di questo tipo essenzialmente per impostarli a costo zero, mentre invece i butterfly normali con range simmetrici ha un costo sempre positivo. Partiamo con i front ratio. Il front ratio, il mercato adesso ce l'abbiamo a 4505. Che cosa significa fare un call front ratio? Quindi esporsi a rialzo da questi livelli. Noi possiamo pensare, orizzonte prossima settimana per esempio, a una strategia di questo tipo. Compriamo una call 4530 e poi andiamo a vedere dove dobbiamo collocarci per recuperare interamente il costo di questa call. Quindi andiamo a vendere per esempio la call 4585. Quindi attualmente siamo uno e mezzo ci costa, se noi andiamo invece cinque punti più sotto, incassiamo un punto. Ecco, si costruiscono con questa logica, cioè di pagare il meno possibile oppure pagare zero, oppure incassare una piccola somma sostanzialmente. Il profilo di questa strategia è il seguente. Si ha un incasso, quindi la linea continua è diciamo il payoff a scadenza, cioè se il mercato scadesse a questi livelli quanto mi produce la strategia, quanto mi produrrebbe la strategia. La linea tratteggiata è invece la variazione istantanea del mark to market in funzione del movimento del mercato. Quindi come si vede non hanno niente a che spartire. Se io mi trovo prossimo alla scadenza, l'andamento della strategia crescerà e poi scenderà, un po' come questa spezzata che vediamo a scadenza. Se invece io mi trovo, come oggi, a sette giorni dalla scadenza, vedrò un andamento di questo tipo. Quindi se il mercato sale, quindi adesso siamo a 4.500, siamo a questi livelli, se il mercato sale il mark to market scende, anche se da 4.530 a 4.580 la strategia produrrebbe un profitto fino ad un massimo di 50 punti a 4.580. Questo perché? Questo perché le opzioni short macinano di più in termini di crescita del valore e quindi noi essendo short abbiamo un impatto negativo, macinano di più rispetto alla singola opzione long 4.530. Questa strategia ha un vega negativo, quindi significa che se la volatilità implicita aumenta ai livelli correnti, questa strategia perderebbe, ad esempio, per ogni 1% di volatilità perderebbe 90 dollari, ok? Quindi il portafoglio avrebbe una penalizzazione dall'aumento di volatilità. Quindi non solo in caso di salita c'è questa perdita dovuta essenzialmente al delta, perché c'è un andamento, una diversa valorizzazione dell'opzione che mi penalizza, ma se vedo un aumento dell'utilità a parità di livello del mercato c'è la perdita di market value. Come si vede questa strategia ha un baratro dal lato riazzista, quindi io comunque devo attuare degli interventi di copertura, ma prima dell'apice, perché quando sono nell'apice praticamente io ho già avuto una perdita tutt'altro che banale. Quindi quando io sono già nell'apice, come si vede qua sul grafico, sono già 2.000 dollari sotto di market value, ok? E tipicamente non è una somma che riesco a sostenere dall'oggi al domani come market value, un impatto troppo importante, quindi io devo iniziare a coprirmi ben prima, ok? Quindi queste strategie necessitano, ovviamente hanno un buon profilo rischio rendimento, nel senso che comunque consentono buoni profitti. Quindi se in caso di mercato laterale o un mercato che addirittura diciamo storm poi risale, ecco questa questa strategia è l'ideale. In un contesto di volatilità al 25 per cento, come è quello attuale, noi difficilmente possiamo pensare che nel giro la prossima settimana il mercato faccia dei movimenti molto limitati come faceva prima di novembre. Quindi questo è uno scenario che mi sentirei di escludere, no? Quindi sta a noi decidere se sopportare questo rischio, quindi dover fare degli aggiustamenti nel caso in cui si arrivi a livelli critici, oppure virare verso strategie meno rischiose. Quindi queste strategie ovviamente quando si fanno più aggiustamenti in un contesto di alta volatilità, come è successo a gennaio, si deve fare i conti con delle execution che possono essere diverse da quelle indicate nel post. Questo ovviamente è inevitabile quando il mercato si muove, io magari scrivo un prezzo di 6, 7, poco dopo lo a 9 e poco dopo posso trovarlo anche a 5, in un contesto di alta volatilità purtroppo succede. Ecco, se io adotto strategie che richiedono meno interventi elimino anche questo rischio, il rischio di fare aggiustamenti in modo non tempestivo e a prezzi diversi da quelli ottimali. Questa strategia può essere modificata, ad esempio chiudendo lo spread, quindi io con il front ratio ho una call acquistata, meno due call quindi vendute, posso comprare, posso magari farlo un po' più stretto, ok? E utilizzare questi punti, questi punti per comprare una call più alta. Questo è un butterfly asimmetrico. In termini di grafici noi vediamo che c'è la stessa spezzata di prima, però c'è un limite, un limite al baratro, ecco. Come caratteristica somiglia molto, solamente che il vega che vi ricordate era 89, nell'altra parte, meno 89, qua è meno 47. Quindi se la volatilità aumenta dell'1%, questa strategia diminuisce di 47 dollari, quella di prima di 89. Perché? Perché sostanzialmente le due opzioni che ho short aumentano sì di valore, però aumenta, oltre alla call lunga, diciamo più vicina, aumenta anche la call, quella più distante di valore, no? Quindi in sostanza l'aumento di valore di questa call distante in parte mi compensa il differenziale, no? Tra l'incremento di valore delle call short e l'incremento di valore della call lunga più vicina, ok? Quindi in questo caso comunque io non sto andando su territori completamente diversi dalla strategia precedente. Devo mettere in conto che con queste strategie io comunque devo intervenire perché, come vedete, in questo caso non ho 2.000 dollari di perdita a 4.575, però ho circa 1.000 dollari di perdita su mark to market. Quindi devo comunque attuare degli interventi di copertura un po' prima per evitare che ci sia questo peggioramento importante in mark to market. Quindi sto comunque parlando di una strategia assimilabile. Ecco, in un contesto di volatilità elevata con VIX che sta sopra a 20, come in questo caso, queste strategie è meglio metterle un po' da parte. Oppure, ecco, in ultima analisi, per chi ha piattaforme dove è possibile operare su opzioni sul micro e mini, vale a dire sul future quello che ha come multiplier 5 anziché 50 come l mini classico. Ecco, si possono implementare queste strategie con le opzioni su questo future, che sono del tutto analoghe alle opzioni sulle mini classiche, però hanno un multiplier di un decimo, quindi al limite io posso fare anche due opzioni di questo tipo, due lotti, anziché farne una di quelle grosse sostanzialmente e ho un rischio che è pari a un quinto. Quindi stiamo parlando di somme molto, molto più ragionevoli. Poi ovviamente dipende sempre dalla disponibilità e dalla propensione al rischio di ciascuna utente, di ciascun investitore. Comunque questa è una possibilità che su alcune piattaforme si ha. Vediamo allora quali sono le strategie che mi sento di consigliare e che sono attualmente operative, diciamo all'interno di weekend option. Sono le strategie che incorporano più scadenze, quindi sono strategie spread di calendario e spread diagonali. Partiamo dagli spread di calendario. Allora gli spread di calendario si caratterizzano per avere una call o una put venduta ad un certo strike e una call o put a maggiore scadenza comprata sullo stesso strike. Quindi adesso siamo a 4.500, pensiamo alla scadenza di prossima settimana e di due settimane successive. Quindi pensiamo alla scadenza per esempio di venerdì 11. Allora io posso vendere la call 4.550 e posso comprare la call 4.550 di due settimane successive. Quindi scadenza in questo caso tra 21 giorni, quindi si sta parlando del 25 febbraio. Vediamo qual è il profilo. Il profilo è una cuspide centrata allo strike del calendario, dello spread di calendario. Come vedete quindi c'è un range piuttosto ampio in cui questa strategia guadagna. Quindi questo è il payoff alla scadenza dell'opzione più breve, quindi l'opzione della prossima settimana. Quindi stiamo parlando di un range che va da 4.450 circa a 4.650, ok? Quindi 100 punti, diciamo in su o in giù, comunque garantiscono un profitto. Cioè quando vado a fare il primo rolling questa strategia comunque mi ha generato un piccolo profitto, anche se mi trovo a 4.450, anche se mi trovo a 4.650, quindi molto distante dal 4.550 che è lo strike del calendar. Però c'è un però e un utente l'ha fatto notare, nel senso che l'osservazione è questa, ma se il mercato sale non dovremmo avere una diminuzione della volatilità e quindi queste strategie sono esposte a questa diminuzione della volatilità, in quanto come si vede hanno un vega positivo, il che significa se la volatilità aumenta dell'1% questa strategia si apprezza di 92 dollari, ma in caso inverso, cioè se la volatilità diminuisce dell'1% questa strategia perde 92 dollari, quindi in un contesto di mercato in crescita tipicamente quello che succede è una riduzione della volatilità. Questo è vero, anche se non sempre quando il mercato sale c'è una riduzione della volatilità, non sempre, anzi quando ci sono dei sali e scendi, ecco a rimbalzo la volatilità si riduce in modo limitato, perché il mercato la vede vede ancora diciamo tutti i scenari molto possibili, quindi uno storno e un rimbalzo forte eccetera eccetera. Queste strategie però hanno un'estrema flessibilità, l'alternativa di prendere posizioni, in questo caso rialziste, perché io sto dicendo questa strategia guadagna al massimo al livello 4550, quindi io da qui a venerdì prossimo, ma aspetto un rialzo settimanale dell'1%. Prendersi delle esposizioni rialziste con questa strategia comunque mi dà estrema flessibilità nel gestirla e nel trasformarla successivamente anche in spread diagonale o in spread verticale. L'alternativa per prendere delle posizioni rialziste o moderatamente rialziste è diciamo quello che dicevo poco fa, quindi front ratio, butterfly simmetrici, ma che hanno tutte le problematiche di aggiustamento e di esposizione a rialzo che abbiamo visto, oppure l'alternativa è prendersi una posizione con uno spread verticale, quindi io sulla prossima settimana posso dire mi compro una call 4520 e vendo una call 4550, già così è una strategia che parte con un grosso handicap, quindi in pratica io spendo 14 punti per coprirmi, per avere un introito massimo di 30 punti a scadenza, quindi è un gioco che non vale la candela. Per fare uno spread verticale settimana in settimana occorre che io mi distanzi a sufficienza per far sì che io non paghi più di un terzo del range dello spread, perché altrimenti parto sempre con poche possibilità di andare in profitto. Già fare 4.540, 4.570 mi costa sempre più di un terzo, ok? Quindi devo ancora allontanarmi, quindi 4.550 e 4.580. dovremmo più o meno esserci, sì, devo alzarmi ulteriormente, 4.560, 4.590, ecco qui dovremmo esserci, eccoci qua, paghiamo 10 punti per avere diciamo un introito massimo di 30 e qua ci stiamo come profilo rischio rendimento di questa strategia. Però questo spread verticale, verticale si intende quando uno spread viene fatto con opzioni della medesima scadenza, questo spread verticale praticamente non ammette repliche, cioè se io individuo effettivamente il trend, allora incasso 30 punti meno i 10 del costo e incasso 20 di profitto. Se invece il mercato scende, resta qui oppure sale di poco, sale meno di 4.590 oppure diciamo si colloca sotto 4.560, se il mercato resta in quest'area io perdo e perdo senza poter fare alcunché, perdo 10 punti. Con uno spread di calendario invece io tramite rolling riesco a, innanzitutto decidendo il timing del rolling, cerco di farli nel momento più opportuno, anche se è difficile individuare ovviamente quando il momento può definirsi opportuno, però ecco tipicamente quando il mercato passa sopra lo strike, quindi quando il mercato sorvola 4.550, ecco quello è uno dei buoni momenti per fare il rolling, perché sostanzialmente il valore temporale dell'opzione che vado a vendere, a rinnovare è massimo, quindi le opzioni etter the money hanno sempre diciamo il valore temporale massimo rispetto alle altre, quello è uno dei momenti. E poi io posso decidere anche lo strike del rolling, quindi riprendiamo la strategia che abbiamo visto precedentemente, quindi questo spread di calendario, posso decidere anche lo strike del rolling, vale a dire se la prossima settimana io trovo l'indice a 4.600, io posso decidere se rollare questa 4.550 su lo stesso strike 4.550 oppure su uno strike più alto, quindi 4.570 per esempio, 4.580, non starei diciamo a fare, a meno che non si operi con i micro, non starei a fare una differenziale di strike molto rilevante, perché poi si è esposti per quella differenza, quindi occorre sempre tenersi abbastanza prossimi alla call lunga che si ha in portafoglia, quindi quella call resta fissa 4.550, la call short in scadenza la posso rollare sullo stesso strike o su strike diverse, quindi io posso decidere lo strike su cui rollare e quindi questo mi dà una grande flessibilità diciamo nel gestire queste strategie, cosa che non ho con uno spread verticale e con le strategie precedenti abbiamo visto che sono esposto a elevata volatilità, direzionalità del mercato, eccessive aggiustamenti. Io nel caso in cui non abbia la minima idea di dove andrà il mercato posso anche fare, come è stato fatto nelle ultime strategie proposte per il weekend option, posso anche fare una sorta di range intorno ai livelli correnti, io quindi mi sposto un po' più in alto per la parte rialzista e mi sposto, posso individuare, non so, un range più ampio, perché do sempre più spazio alle discese alla parte ribassista. In questo caso ho un doppio spread di calendario e in sostanza questo è il payoff che ottengo sulla settimana, quindi sostanzialmente dal punto di vista istantaneo se il mercato si muove ho sempre un effetto su mark to market negativo, però vedete comunque è un negativo gestibile, stiamo parlando sempre di 500 dollari quando si arriva ai livelli individuati dagli strike della strategia. Queste strategie occorre sottolineare che hanno una perdita massima limitata al costo di apertura, quindi per perdere questo costo di apertura, che in questo caso è 57 diciamo, per perdere interamente questo costo di apertura, io devo avere un mercato che si sposta di 500 punti senza poter fare nulla, quindi praticamente non succede mai, bisogna che succeda qualcosa di notevole, quindi pensiamo al Black Monday dell'ottobio 87, fatti del genere. Comunque quando il mercato si muove diciamo in modo così rilevante è evidente che poi aumenta anche la volatilità, quindi queste strategie beneficiano dell'aumento di volatilità, come vedete il vega di questa strategia composita, è pari a 190 dollari, significa che se la volatilità aumenta l'1%, questa strategia, se il mercato resta stabile, aumenta di 190 dollari. Quando il mercato fa una meno 10 d'emblè, è evidente che questa strategia perde sì, però l'effetto volatilità mi tiene su questo payoff, questo cosa fare? Posso fare diciamo questo questo range con due cuspidi, ecco devo comunque tenermi abbastanza largo perché quando il mercato va fuori da questi livelli come si vede poi il payoff si riduce, quindi va giù abbastanza lignetto, allora lì in quel caso l'unica possibilità che ho è fare degli spread verticali per coprirmi, quindi comprare dei call spread a rialzo o comprare dei put spread a ribasso quando quando arrivo a quei livelli. Un'altra strategia che in sostanza è una variazione di questo spread di calendario è lo spread diagonale, allora lo spread diagonale immaginate un po' diciamo come un modo per spendere meno con gli spread di calendario, se io compro uno spread il calendario sulla prossima settimana e diciamo sul 25 febbraio a 4580 mi costa 25 punti, se io invece compro la call 4.600 anziché la 4.580 mi costa 17 punti, quindi stiamo parlando comunque di una differenza non trascurabile. Ovviamente spendere meno implica anche che mi prendo qualche rischio in più, infatti se io vado a guardare il profilo di questa strategia vedo che è molto simile a quello precedente però sostanzialmente lato oltre 4.580 la cuspide va giù più diciamo più repentinamente, proprio perché diciamo quando io supero 4.580 questa call short macina macina più rapidamente della della call lunga che in realtà ha un delta più basso perché sta a 4.600 il low strike, quindi macina ad un ritmo più più rapido e quindi questo mi fa andare giù il payoff in modo più repentino. quindi in sostanza il rischio mentre il rischio di un calendar è dato dal costo di apertura il rischio di un diagonal è il dato dal costo di apertura che è tipicamente inferiore del calendar più differenziale di strike tra opzione venduta e opzione acquistata. In questo caso stiamo parlando di 20 punti quindi il rischio complessivo di perdita di questo diagonal è pari a 37 punti quindi 17 più 20 differenza di strike. Ecco in un contesto di volatilità superiore a 20 io mi consiglio diciamo di consiglio di limitarsi a queste strategie, queste strategie diciamo di diagonal, di calendar e eventualmente di range costruiti con una combinazione di queste strategie. perfetto Massimo grazie mille per aver passato in rassegna alcune delle strategie che compongono Weekend Option e il set strategico di Weekend Option non che alcune delle strategie che riguardano la tua area di competenze e grazie a tale applicazione di metodo e grazie anche alla tua capacità di adattamento che riesci ad eccellere nel mondo delle opzioni. Pertanto io ti chiederei Massimo di mostrarci, di farci una panoramica di quali risultati siamo riusciti a conseguire anche partendo da quello che è il periodo precedente, la nascita del servizio fino ad oggi perché come anticipato in apertura di questo webinar stiamo parlando di un servizio che in 4 anni se non erro ha prodotto più del 900%. Potresti mostrarci i dati relativi a tale performance? Sì, allora questo è il periodo che va da inizio 2017 fino a fine aprile del 2021, in sostanza il giorno in cui è partito Weekend Option quindi il capitale iniziale era di circa 14.000 euro, il valore finale quindi ad aprile 2021, fino aprile 2021 è stato di 59.242 euro con però prelievi per 35.000, quindi in sostanza il rendimento aggregato è stato del 993%. La volatilità ovviamente per ambire a questi rendimenti occorre accettare della volatilità, la volatilità giornaliera è pari al 2%, quindi corrispondente a circa un 35-36% all'anno di volatilità. I periodi, qui sono indicati esclusivamente gli anni interi Massimo, perdonami se ti interrompo, stavo appunto chiedendoti, viste tali performance, tali risultati, ci sono dei periodi in cui però l'operatività è stata cedevole, manchevole? Sì, quindi può succedere quando sostanzialmente non ci si fasa con il mercato sostanzialmente, quindi quando non si individuano oltre i trend proprio gli atteggiamenti del mercato Quindi quando si pensa a un contesto di bassa volatilità, in realtà subito passiamo a un contesto di alta volatilità, quindi magari si sono aperte delle strategie di front ratio, sostanzialmente quando la volatilità aumenta, poi queste qui vanno subito in sofferenza, bisogna rincorrere, no? Quindi quando la cosa più dannosa per questo tipo di strategie è dover rincorrere, magari recuperando i costi di copertura, vendendo dei put spread per esempio, o dei cost spread se l'andamento è ribasso E poi il mercato cambia direzione, quindi devi sostanzialmente rincorrerlo dall'altra parte Ecco, questi cambi di direzione, oltre a creare stress, creano tipicamente delle perdite, il portafoglio che possono essere perdite sulla settimana E che vediamo qui nel track record anche, giusto? Sì esatto, il track record sono stati dei trimestri negativi, quindi il primo trimestre del 2017, il primo trimestre del 2018, il primo trimestre del 2020, il terzo trimestre del 2020, l'ultimo trimestre, no, l'ultimo trimestre sono tutti positivi Allora, quindi diciamo che non fasarsi col mercato può esporre a questi rischi, oppure quando ci sono periodi in cui non si prende proprio, non si individua proprio il trend del mercato Quindi magari io posso fare un call calendar verso l'alto, poi il mercato va giù e quindi quel call calendar perde di valore Quindi sostanzialmente sono queste occasioni Allora, come andamento sugli anni abbiamo comunque rendimenti che vanno da un minimo di 42,36 a un massimo di 121 nel 2019 L'anno scorso si è chiuso con, l'anno scorso, il 2020 scusate, con un più 77,40 E nonostante ecco quel primo trimestre che ci ricordiamo tutti, no, quindi il mercato come sapete nel primo trimestre del 2020 ha sofferto molto per lo scoppio della pandemia Quindi nel periodo più nero, cioè in cui diciamo gli asset rischiosi sono letteralmente crollati Dal 21 febbraio al 20 marzo l'S&P ha perso il 31% circa Il portafoglio che adottava quasi esclusivamente strategie del secondo tipo Quindi spread di calendario e spread diagonali Però ha perso ugualmente perché ovviamente con un mercato che ti fa meno 8, meno 10, più 6 È difficile individuare dei range o dei livelli di settimana in settimana È estremamente difficile E quindi è evidente che magari si fa un rolling non ottimale Quindi si fa un rolling per paura diciamo di perdere il valore che era il residuo della strategia Poi il mercato va in quella direzione Quindi in sostanza hai fatto un rolling non ottimale Quindi queste situazioni accadono in contesti di estrema volatilità come quello che è successo nel 2020 Nel rimbalzo, 20 marzo, 9 aprile In questo periodo l'S&P ha preso un trend ben definito Allora in quel caso era più facile individuare una direzione, una direzionalità E quindi l'S&P ha guadagnato il 21% Il portafoglio ha recuperato integralmente la perdita sostenuta Quindi l'S&P doveva recuperare ancora il 10% circa Il portafoglio ha recuperato interamente la perdita sostenuta Per quanto riguarda invece Weekend Option Il servizio è partito il 30 aprile del 2021 Quindi in sostanza si è attaccato alla fine di questo track record che abbiamo appena visto Il rendimento dopo 9 mesi è pari a 18,5% sostanzialmente Quindi siamo alla fine di un mese Che è partito con il contesto di alta volatilità Questo mese sei stato anche particolarmente sfortunato Massimo In quest'ultimo mese In quest'ultimo mese sì Diciamo che l'alta volatilità Inizialmente aveva penalizzato il portafoglio Poi con la strategia numero 37 C'è uno spread di calendar put Sostanzialmente in due giorni A ridosso della Fed Aperto il mercoledì In cui c'è stata la riunione della Fed In due giorni questo spread Ha guadagnato 1.500 dollari Quindi è stata una view Precisa e bene individuata E questo ha consentito sostanzialmente al portafoglio di passare in positivo Poi diciamo l'ultimo giorno di gennaio C'è stato un rimbalzo in area 4.500 Quindi una strategia ha necessitato di coperture Quindi quei costi di copertura sostanzialmente Sono anche il profitto negativo di gennaio Perché altrimenti sarebbe stato un mese positivo Quindi sostanzialmente per incassare qualche punto in più Abbiamo venduto venerdì 28 una call Ecco che col settino di poi sarebbe stato meglio non vendere Perché poi in sostanza abbiamo pagato per le coperture Più di quanto incassato con quella call Però diciamo il messaggio di fondo non va perso Nel senso che il messaggio di fondo è che in un contesto di alta volatilità Meglio prediligere strategie che necessitano di minori aggiustamenti Ecco e quindi meglio focalizzarsi su un range di variazione Spread di calendario o spread diagonali Ecco comunque diciamo che questo mese Questo mese siamo partiti discretamente Attualmente abbiamo una strategia Che è lo spread di calendario Fatto con le put 4.300 Che necessita del rolling finale E poi abbiamo uno spread diagonale 4.570, 4.590 Che ha ottenuto, che sta ottenendo Un profitto diciamo di alcuni punti Quindi meglio portare a casa 100-200 dollari in una settimana Ecco che stare assiduamente Incollate al monitor Per fare dei rolling Per fare delle coperture eccetera Poi il mercato comunque può fare delle variazioni Che non sono gestibili In un contesto di alta volatilità Quindi ci troviamo Svarioni i 50 punti Che penalizzano Penalizzano magari tutto il lavoro di una settimana Quindi meglio fare meno operazioni E accettando una potenzialità di guadagno inferiore Quindi Come abbiamo visto Scusami Massimo I pochi segni meno presenti Sui tuoi track record Vengono poi immediatamente soppiantati Da grandi segni più Tanti segni più E positivi Sì diciamo che Mancano ancora Tre mesi Per chiudere Per chiudere questo anno Ecco Siamo positivi Confidiamo di Di arrivare a target Di rendimenti Più Più elevati Diciamo che Il 5% al mese L'ho sempre definito alla portata Quindi partendo con un capitale Di 20.000 L'ho sempre definito alla portata Ecco Siamo Diciamo Non siamo Siamo un po' sotto Però Diciamo è comunque un target Che può essere Che può essere raggiunto Certo 18,46% Allora Massimo Io mi riprendo il controllo dello schermo Grande apprezzamento Da parte degli abbonati Di Weekend Option Complimenti a te Complimenti alla tua Alla tua Bravura Massimo Il servizio Weekend Option È in promozione Esclusiva Promozione speciale Per cui vi basterà inviare un whatsapp Un sms Al numero 320-875-6444 È una promozione davvero imperdibile 320-875-6444 Inviate un whatsapp Un sms Con scritto Weekend Option Dottor Massimo Foglia Inoltre Laddove aveste bisogno di informazioni Sempre un whatsapp Un sms Al numero 320-875-6444 Le borse Come recita il titolo De questo webinar A una svolta storica Guadagna con le opzioni settimanali Di Weekend Option Allora Massimo In questa seconda parte Vorrei che ci parlassi Di quelle che sono le caratteristiche del servizio Oppure se c'è operatività Su cui ti stai soffermando La tua attenzione si è focalizzata Mostracela pure Sì Allora Possiamo Partire diciamo Dal portafoglio modello Portafoglio simulato Che vede diciamo Queste posizioni Queste posizioni aperte Qui in pratica Che cosa abbiamo? Abbiamo Due Diciamo Due spread Su scadenze diverse Ok Quindi abbiamo Il calendar put 4003 Abbiamo un call diagonal 4570 4590 In sostanza Si è costruito un range Intorno ai livelli correnti Del mercato Quindi immaginate Un po' come la situazione L'ultima cosa Che abbiamo visto Quindi una doppia cuspide Lato destro E lato sinistro Quindi Diciamo che Con Questa strategia Con questo tipo di strategie Penso di andare avanti Ancora Ancora per un po' Ecco Finché Non si individua Magari Un trend Ben definito Finché Non c'è una Riduzione Della volatilità Magari Perché comunque Abbiamo visto Che siamo Intorno a 25 Che non è Che non è Così Così bassa Soprattutto per S&P 500 Per il Futsimib E bassa Ma per S&P 500 No Tutt'altro Quindi Sicuramente Si va avanti Con questa strategia Ancora per un po' Quindi operatività Meno assidua Quindi anche Più Più semplice Da seguire Nel mese di dicembre Abbiamo visto Proprio Lo stacco Tra passare Da una strategia Di doppio Butterfly Asimmetrico A una strategia Di spread Di calendario Diciamo che Sono stati Richiesti Solamente Un paio Di rolling Mentre Dall'altra Dall'altra parte Abbiamo fatto Decine Di aggiustamenti Quindi Questo Rende anche Più Tranquillo Più sereno Il monitoraggio Il monitoraggio Del portafoglio Ripeto È sempre Possibile Quando si Implementano Comunque Strategie Più Più Volatili Adottare Delle soluzioni Con Moltiplicatore Più Più Contenuto Quindi Ho detto Prima Dei micro E mini Quindi Opzioni Sui Future E mini Che Rappresentano Proprio Diciamo Specularmente Rappresentano Questi Future Big Ma Con Multiplayer Di 5 Anziché 50 Quindi C'è Sempre La consegna Di Future A Scadenza E Così Via E Poi Abbiamo Anche Un'altra Possibilità Che Sono Le Opzioni Sul SPY Vale a dire Sul L'ETF Che Tracca L'andamento Dell'SP500 C'è Un Punto Debole Diciamo Su Questo Tipo Di Operatività Nel Senso Che Le Opzioni Comunque Sono Opzioni Che Trattano Solamente Nell'orario D'apertura Americana Quindi 15 30 22 E Quindi Gli Aggiustamenti Che Noi Facciamo La Mattina O La Sera Dopo Le 10 A Volta E Capitato Non Possono Essere Apportate Però Comunque Stiamo Parlando Di Un Controvalore Di Sottostante Che Pari A Un Quinto Circa Del Valore Del Sottostante Delle Opzioni Classiche Sulle E Mini S&P 500 Lasciamo Perdere Poi Diciamo Le Opzioni Sul Spx Quindi Sull'indice Ecco Queste Opzioni Ovviamente Non hanno Problematica Della Consegna Dei Futures Però Hanno Multiplier Di 100 Quindi Hanno Un Peso Doppio Rispetto Alle Opzioni Sul Future Quindi Sono Più Rischiose Però Ecco Non c'è Tutto Quel Rischio Che Possiamo Attribuire Alla Consegna Dei Future Perché Questo Rischio È Tutt'altro Che Banale Quindi Credo Che Ci Siano Passati Tutti Quelli Che Operano Su Queste Opzioni A Vedersi Assegnato Un Future Quando Non Se Lo Attendono Poi Ci Sono Delle Piattaforme Che Questa Assegnazione Te La Fanno Istantanamente E Ci Sono Invece Le Piattaforme Che Puoi Vederlo Solamente In Mattina Come Andata A Finire Quindi Nel Tempo Durante Il Fino Settimana Può Essere Successo Di Tutto Quindi Questo Rischio È Tutt'altro Che Banale Quindi Caratteristiche Del Servizio Come Abbiamo Detto A Volte Diciamo Come Capitale Consigliato 20.000 Dollari Questo Consente Di Avere Una Buona Disponibilità Per i Margini Anche Per Le Strategie Più Rischiose Come Front Ratio Quindi Nella Classifica Del Rischio Mettiamo Il Front Ratio Diciamo Che Sono Un Poi Meno Rischiosi Della Vendita Di Opzioni Naked Quindi Opzioni Vendo Una Put Vendo Una Call Lì Ovviamente Ho I Margini Più Alti In Assoluto Il Front Ratio Sta Un Gradino Sotto Perché Comunque Si Deve Fare Un Po Di Strada Per Arrivare A Quegli Strike E Prima Diciamo Di Arrivarci C'è Una Call Che Ti Fa Guadagnare Una Put Che Ti Fa Guadagnare Quindi Il Rischio Un Po Inferiore Però Stiamo Parlando Sempre Di 12 13 Mila Dollari Di Margini Quindi I Butterfly Asimmetrici Hanno Comunque Una Richiesta Di Margini In Prossima 6 7 Mila Dollari Dipende Ovviamente Quanto Mi Sposto Lontano Diciamo Con L'opzione Che Compro Che Chiude Tutto Che Chiude Tutto Lo Spread Poi Abbiamo Questi Spread Di Calendario Diagonali Come Vedete Ecco Questi Due Spread Richiedono Margini Per 3.000 Dollar Poco Più 3.500 Di Margini Iniziali 3.200 Di Margini Mantenimento Quindi Non Si Hanno Assolutamente Problemi Quindi 20.000 Consente Di Gestire Questo Tipo Di Strategia In Modo Molto Agevole Con 15.000 Si Riesce Lo Stesso Con 10.000 Devo Avere Accortezza In Più Nel senso Che Queste Strategie Che Vediamo Attualmente Aperte Si Aprono Tranquillamente I Butterfly Asimmetrici Tendenzialmente Si Aprono Tranquillamente I Front Ration No In Quel Caso Devo Comprare Delle Opzioni Out Of The Money Che Mi Consentano Di Metrici Quindi Noi Massimo Abbiamo Alcuni Abbonati Come Ben Sai Che Dispongono Di Un Capitale Da Diecimila Dollari Vorrei Ricordare Inoltre Ai Futuri Abbonati Qualora Ci Fossero Futuri Abbonati Con Capitali Da Diecimila Dollari Che In Questo Caso In Caso Del Genere C'è Uno Staff Di Weekend Option Che Mostrerà Loro Quali Alternative Ci Sono Per Poter Operare Comunque Con Un Capitale Inferiore Rispetto A Quello Consigliato Sì Diciamo Io Tipicamente Nei post In Cui Si Aprono Posizioni O Strategie Che Richiedono Margini Più Elevati Dico Sempre Qual È La Possibilità Per Chi Ha Problemi Di Margine Quindi Dico Sempre Chi Ha Problemi Di Margine Può Comprare Questa Call 4007 Che Costa 030 Ok Quindi Perché Faccio Le Simulazioni Sulla Mia Plattaforma E Vedo Diciamo Che I Margini Passerebbero Da 13 A Sette No Quindi Sostanzialmente Penso A Questa Possibilità Però Se C'è Ancora Ristrettezza Di Margini Ovviamente Possiamo Essere Contattati E Qui Il Numero Di Operazioni Dipende Dal Tipo Di Strategia Diciamo Che Ok Diciamo Che Su Questi Nove Mesi Abbiamo Fatto Un Numero Di Operazioni Ecco Come Si Vede Diciamo Prossima A 200 Però Qua Stiamo Parlando Di Anche Di Finte Operazioni In Senso Che Viene Indicato Anche Il Settlement Quando C'è Oppure Quando In Una Sittazione Si Fa Contestualmente Un Doppio Spread Si Compra Uno Spread A Rialzo E Si Vende Uno A Ribasso Qua Viene Messa In Due Righe Per Chiarezza L'operatività E Quindi Il Numero Di Operazioni Effettivo È Inferiore Diciamo A Quello Che Si Vede Dal Numero Di Righe Di Questa Tabella Però Ovviamente Dipende Il numero Di Strategie Quelle Più Rischiose Richiedono Più Aggiustamenti Quindi Più Operazioni Diagonal Calendar Meno Operazioni Tipicamente Il Rolling Periodico Quindi Due Tre Operazioni Prima La Chiusura Siamo Stati Siamo Passati Da Una Media Di Tre Tre Volte Mezzo Tre Operazioni Mezzo A Settimana Ad Una Media Di Cinque Sei Operazioni A Settimana Soprattutto Nel Mese Di Dicembre E Poi A Gennaio Abbiamo Abbassato Di Nuovo La Media Quindi Siamo Tornati A Quattro Tre Mezzo In Termini Di Operatività Quindi La Media Fatte Le Devute Eccezioni Ovviamente Sì esatto Diciamo che Indicativamente Siamo Siamo Su Quella Media Ok Per Seguire Il Servizio Massimo Devo Vivere Davanti Al PC Con Gli Occhi Incollati Sullo Smartphone No Come Dicevo Prima In Un Contesto Di Alta Volatilità Se Io Ho Determinate Strategie Se Sono Tempestivo Ovviamente Mi Trovo Meglio Però In Questo Caso C'è Per Nel Portafoglio Attuale Assolutamente Io Posso Fare Qualsiasi Cosa Ovviamente Oggi C'ho I Rolling Quindi Devo Tenere Presente Che Comunque Devo Dare Un Occhio Allo Smartphone Per Vedere Il Messaggio Telegram Che Mi Dice Quando Fare Rolling Però Oggi È Una Delle Giornate Che Al Di Rally Che Posso Fare Qualsiasi Cosa Quando Ci Sono Strategie Più Rischiose Quindi Sono Vicino A Livelli Critici Sono Strategie Che Comunque Richiedono Aggiustamenti Ecco Lì Viene Richiesta Cioè È Utile Essere Tempestivi Poi Magari Nel Giro Di Qualche Minuto Trovo Un Prezzo Migliore Sostanzialmente Oppure Quell'operazione Di copertura Non Non Ha Più Senso Farla Perché Il Mercato Praticamente Sallontanato Da Livelli Critici Ecco Questi Sono Tutti Tutti I Fattori Che Possono Anche Rendere Diciamo Migliore Ritardo Rispetto A Quanto Non Sia Inizialmente Però Ecco Dipende Dal Tipo Di Portafoglio Tipicamente No Perché Anche Per La mole Di Operazioni Non È Un' Operatività Assidua Però In alcune Giornate In alcune Giornate Era importante Essere Tempestivi Certo Perfetto Weekend Option Allora Dal 2017 Per Quattro Anni Ha Prodotto Oltre Il 990 Per Cento Poi Dall'aprile Dalla Nascita Ufficiale Sul Sito Dell'Istituto Svizzera Della Borsa Ad Oggi Siamo A Quasi Al 19 Per Cento Quindi Unico E Di Un Autore Magnifico Professionale Accorto Attento Bravissimo Massimo Io mi riprendo il controllo dello schermo perché Weekend Option è in promozione esclusiva Una promozione unica e ripetibile e imperdibile Vi basterà inviare un whatsapp o un sms al numero 320 875 6444 con scritto Weekend Option o dottor Massimo Foglia 320 875 6444 anche laddove aveste bisogno di informazioni Non esitate a inviare un whatsapp o un sms al numero 320 875 6444 Massimo io ti ringrazio immensamente per la tua esposizione sempre brillante grazie mille Grazie grazie a te grazie a tutti e ringrazio tutti i partecipanti calorosamente grazie mille una buona giornata a tutti Grazie a tutti